e ci ritroviamo di nuovo cari amici e cari amiche di Angoli grazie per essere ancora con me e continuiamo questa serata insieme con i prossimi ospiti immediatamente ve li presento io trovo con molto piacere qui ad Angoli Viviana Dallapria grazie Viviana per essere qui con me grazie a te Dori per l'ospitalità è sempre un gran piacere essere tua ospite ad Angoli su Espansione TV grazie non sei sola perché porti invece un amico ormai consolidato qui ad Angoli il dottor Guido Stancanelli io ormai ti do anche del tu del tu diamoci del tu Dolores certo ciao Guido grazie per essere ancora una volta qui con me naturalmente la tua presenza ci porta ancora una volta ad approfondire la realtà di Banche Generali che questa sera poi vedrà un ampliamento un focus una prospettiva che sarà proprio Viviana a spiegarci molto bene nel dettaglio su Larioin associazione che collabora con voi per molti aspetti ma io partirei ancora una volta con te da Banche Generali perché tu ci potessi riepilogare soprattutto gli amici a casa insomma di che cosa vi occupate qual è questa realtà nel Comasco Banche Generali come ho sempre detto Dolores è una banca diversa rispetto alle altre una banca che opera sul territorio con un'architettura aperta e soprattutto con dei consulenti che si affiancano alle famiglie per tutelare i patrimoni quindi lavoriamo soprattutto per dare dopo una disamina attenta di quelle che sono le esigenze del cliente il servizio adeguato alla famiglia Voi avete naturalmente un contatto molto diretto con il territorio quindi avete una percezione anche di ciò che accade di come evolvono le situazioni soprattutto anche in un momento storico particolare come questo quindi qual è il polso della situazione? Che risposte e che sollecitazioni vi arrivano? Guarda la cosa importante per noi e soprattutto per i 20 consulenti che operano sul territorio di Como siamo in una bellissima villa come ho sempre detto siamo su Lungolario di fronte al nostro bellissimo lago ecco diciamo che il ritorno che abbiamo da parte dei nostri fantastici consulenti che sono al top nel territorio per assistenza e consulenza alla clientela è proprio quella di avere una risposta alle domande oggi il territorio che è un territorio con vocazione anche imprenditoriale ci chiede un servizio, una consulenza una disamina veramente di quelle che possono essere le risposte che una banca come la nostra che ha un'architettura aperta e che comunque opera a 360 gradi vuol dire che non offriamo solamente prodotti finanziari ma offriamo anche consulenza in tanti altri settori e quindi vuol dire che copriamo tutto quell'arco importante della tutela dei patrimoni dei nostri clienti in tante realtà soprattutto poi in modo particolare nel passaggio generazionale. Ecco detto questo Guido in realtà hai già spiegato molto bene la vostra mission è proprio quella di stare a fianco al territorio lo fate in molteplici modalità una di queste è anche quella di passare attraverso un'associazione come l'Arioin io già ho anticipato che sarà Viviana a parlarne ma vorrei una tua introduzione ma è importante per noi tu sai noi siamo banca generale rappresentiamo un gruppo che da 200 anni sul territorio nazionale e internazionale e quindi abbiamo questa grossa responsabilità questa grossa reputation è ovvio che quando ci muoviamo sul territorio ci muoviamo cercando soprattutto di cogliere quelle professionalità che sono vicine e incline a quello che è la nostra filosofia come banca e abbiamo individuato l'Arioin un'associazione fantastica che comunque ormai da anni collabora con noi ed è importante perché comunque questo tipo di sinergia dà a noi una come si dice oggi uno storytelling importante e all'Arioin di ovviamente occuparsi in diversi settori che vanno dalla cultura al welfare alla letteratura eccetera eccetera eccetera. Grazie Guido, allora vado finalmente da Viviana e affido a te il compito di presentare in maniera ancora più dettagliata agli amici a casa il ruolo, le funzioni, la mission di l'Arioin. Allora l'Arioin è un'associazione attiva sul territorio da ben dieci anni quindi anche per questo siamo qui un po' per celebrarla perché sono dieci anni di attività, sono attività importanti che sono state svolte sul territorio a partire proprio da quello che come raccontava Guido al dopo di noi quindi con una serie di focus, di convegni su questo tema non soltanto per il patrimonio ma proprio anche per il passaggio emotivo e intellettuale del passaggio delle generazioni quindi è stato fatto tutto un lavoro che ha coinvolto interlocutori molto importanti sul territorio non solo di Como ma anche di Lecco e Varese. Dopodiché sono state fatte delle azioni altrettanto importanti sull'accoglienza dei bimbi su delle attività realizzate presso il Tribunale di Como quindi con degli spazi dedicati proprio a loro. Inoltre con la pandemia abbiamo pensato di dare un impulso, un sostegno al lato artistico e agli artisti di diversi settori che con questo grande stop erano poi stati messi un pochino in crisi. Voi sostenete anche start-up ai giovani e quindi avete anche un impulso importante in questa direzione oltre alle varie attività che già hai elencato? Assolutamente, la Rioin grazie al supporto di Banca Generali è in grado di mettere a disposizione delle nuove generazioni, dei giovani talenti, delle borse di studio e le fa attraverso diversi canali con una collaborazione con la Camera di Commercio che è partita recentemente ma anche attraverso il sostegno di artisti, di scrittori. Quest'anno presentiamo la terza edizione di scrittori di Lago che è un premio letterario dedicato ai territori lacustri e quest'anno abbiamo proprio introdotto il premio Giovane Autore quindi per dare un sostegno economico e di studio a chi si vuole cimentare in questa attività. Inoltre lavoriamo anche, sempre su scrittori di Lago, con i ragazzi dello Yulm quindi abbiamo attivato questa collaborazione importantissima per permettere loro di venire a contatto con il settore della traduzione e cimentarsi accanto a dei grandi maestri della traduzione italiana e non solo in modo da poter prendere le redini di quello che potrebbe essere la professione di un futuro. Viviana, tante quindi sono le attività ma anche le date che abbiamo peraltro molto vicini a noi. Ce ne vuoi parlare? Ad esempio, proprio domani, martedì, andremo in Canottieri Lario e prima ancora in Comunuoto con un grande campione che Banca Generale ci mette a disposizione, Umberto Pellizzari notissimo campione della subacqua, della Pnea che riuscirà a mettersi in contatto con i giovani sportivi di queste due associazioni che sono primarie sul nostro territorio perché fanno un'attività sportiva che non solo raggiunge risultati sportivi molto molto alti ma che fa un'attività formativa non solo agonistica ma proprio di vita per i giovani che ci si cimentino. Quindi diamo l'opportunità domani a questi giovani atleti di queste associazioni di intervistare, di mettersi a confronto, di fare un team building con un campione primario come Umberto Pellizzari, tutto questo è possibile soltanto grazie al sostegno di Guido. Guido, quanto è importante attingere da chi ha avuto coraggio, determinazione, impegno come appunto questo grande campione per poter intraprendere con più determinazione il proprio percorso di vita, visto che parliamo di giovani? I ragazzi hanno bisogno di modelli, ce ne sono tanti. Noi cerchiamo un po' di discernere e cerchiamo ovviamente di collaborare con dei miti perché Pellizzari ormai a livello nazionale è un punto di riferimento molto importante. Team building è fondamentale perché è un grande campione dietro a una squadra e questa è la cosa più importante, il gioco di squadra. Non bisogna mai pensare di essere da soli ma fare team. Ecco, con questo team building con Pellizzari vogliamo proprio dare questo tipo di impronta. Non è tutto però Viviana, torno da te perché anche Villa Carlotta ha molto da porre, vero? Assolutamente perché grazie sempre a questo spirito di squadra ci mettiamo al servizio di Villa Carlotta sostenendo una mostra che è in corso, che andrà avanti fino a settembre, la mostra fotografica di Paola Mattioli, molto bella da non mancare, sta passando la locandina in sovraimpressione, siamo a disposizione delle realtà culturali che ci interpellano e con cui abbiamo piacere di collaborare. Nella stessa sede di Banca Generali ospitiamo diverse mostre. In questi giorni, sono gli ultimi giorni in cui sono esposte le fotografie di Fabrizio Ielmini, prestissimo invece verranno allestite le opere d'arte, le sculture di Walter Tacchini che rimarranno visitabili fino a settembre come la mostra di Villa Carlotta. Abbiamo già citato brevemente, o meglio l'ha fatto Viviana, questo appuntamento che davvero avete iniziato anche a presentare qui da noi e che poi si è consolidato come un percorso molto molto significativo. Sto naturalmente parlando di scritture di lago. Quindi tornerà e quindi ancora una volta il lago e i territori saranno protagonisti. Assolutamente, diciamo che è l'acqua il protagonista, soprattutto in una fase come questa dove la sostenibilità è il primo posto. Soprattutto Banca Generali ormai dal 2018 ne ha fatto proprio un modello di servizio offrendo ai nostri clienti anche diversificazioni che hanno come obiettivo quello che ci chiedono i nostri clienti, la sostenibilità. Però la cosa importante è che noi abbiamo fatto nel 2018 affiancare un controller che ci controlla, quindi un advisor esterno che è Main Street, che controlla i nostri portafogli. Perché molte volte la cosa più importante è non fare pubblicità o declamare un attimino degli obiettivi, ma avere soprattutto qualcuno che certifica quello che noi facciamo. E qui torniamo al discorso che ti facevo prima. Abbiamo una reputation e ci teniamo tanto, tantissimo a mantenerla. E quindi ricordiamo Viviana, in chiusura di questo nostro incontro, questo appuntamento che sarà a Villa Olmo, se non sbaglio. Si sono concluse i termini per presentare le opere, le nostre giurie stanno lavorando, il 27 di settembre a Villa Olmo terremo la presentazione dei vincitori, quindi la proclamazione vera e propria a cui tutti voi siete invitati e tu in primis assolutamente Dolores. Ti ringrazio Guido, in battuta conclusiva, che cosa ti aspetti da questa prossima edizione, da questo appuntamento a Villa Olmo e da queste scritture di lago? Una collaborazione più interessante con la Camera di Commercio, perché il premio ha questa bellissima iniziativa, parlare ovviamente del mondo lacustre, ma soprattutto parlare di economia. Chi legge un romanzo ritorna a visitare i posti pieni di emozioni. Ecco, quindi è veramente interessante poter coniugare e mettere a terra con la Camera di Commercio, magari eventi nel periodo della premiazione, proprio cercando di coniugare queste due realtà. Quindi, narrativa lacustre, economia di territorio. Io ringrazio il dottor Guido Stancanelli per questo percorso che di fatto abbiamo fatto insieme qui ad Angoli. Quindi grazie e ovviamente ringrazio tantissimo Viviana Dallapria per essere stata qui con me questa sera. Grazie Dolores. Grazie, alla prossima. Grazie anche a voi. Vi ricordo naturalmente la nostra mail. Continuate sempre a scrivere ad angolichiocciola, espansionetv.it. Io tornerò con voi domani e tra poco c'è la nostra informazione. Grazie a tutti.